Oh buonasera a tutti ragazzi, questa sera siamo nel Piacentino, bellissimo posto, Vorgonovo, Valtidone ragazzi, siamo tantissimi, tantissimi anche questa sera, quindi prepariamoci per una serata di quelle super, serata super, dai che ce la facciamo, grande, vai a chiamare una dottoressa qua, a fare la diretta ragazzi, guardate quanti siamo qua, siamo veramente tantissimi, donne bellissime, uomini bellissimi, una serata superlativa, guardate quanti siamo, veramente, tinite un po', va, muoviti dolcemente, dolcemente, Sì, sì Vai a continuare le calciole, vai, vai, vai a continuare. Ma buonasera, Lucaio, tutto bene? Bene. Ciao. Paolo, giusto? E buonasera alla nostra barista che ci deve fare pubblicità. Ok, domani con la maglia.